Amici 22, Isobel finalista, per me un sogno Giuseppe Gioffre in lacrime. Amici si sta avvicinando sempre di più alla finale e in gara sono rimasti sempre meno allievi. Sei per la precisione, Aaron, Angelina, Maddalena, Isobel, Mattia e Wax. Proprio questa sera. Sabato 6 maggio, si sta svolgendo la semifinale dove, appunto verranno decretati i finalisti di questa edizione del talent show. La prima a strappare il pass per l'ultima puntata Isobel. Isobel appartiene alla squadra capitanata dalla mestra Alessandra Celentano e da Rudi Zerbi all'interno del team di cui fa parte. È rimasto solamente il collega Aaron. Dopo una serie di esibizioni che, ancora una volta, hanno evidenziato il grande talento della ballerina australiana, ecco che è arrivato il momento di decretare il primo finalista tra lei e Aaron. Tutti i giudici hanno espresso il loro giudizio ed ecco che Isobel a correre verso la maglia d'oro. Giuseppe Gioffre, che ha sempre espresso la sua ammirazione nei confronti della ballerina, si è commosso vedendola prendere la maglia tanto desiderata. La ballerina preferita di Alessandra Celentano non riusciva a credere a ciò che le stava capitando ed emozionatissima, urlando è corsa verso la maglia che secondo i giudici, i compagni e anche i social, ha davvero meritato.